E' proposta da sei organizzazioni di produttori ormai fruttivoli e c'è una importante in questo territorio che si chiama Assolutitale e qui a me c'è una rappresentante di questa grossa realtà produttiva che è Giulia Signoretta, alla quale passo la parola. Buongiorno a tutti, buongiorno ai bambini, io devo ringraziare la scuola che ha risposto altamente a questa iniziativa, a questa proposta e ci teneva venuto a portare questa iniziativa a Piolli, che ieri siamo stati a Matera e con l'intensato di studenti abbiamo pensato di coinvolgere soprattutto le facce più giovane, che insieme ai bambini portare a questa iniziativa la sensibilizzazione del consumo della frutta nella scuola, perché la scuola ha un valore di 360 gradi. quindi è importante anche che insieme ai bambini portano i bambini, i bambini, i bambini hanno un profumo di frutta e di frutta, insieme ai bambini portano i prodotti, e poi c'è un altro fattore. Dalle spiagge noi ci spostiamo verso i paesi, verso i progetti, oggi siamo stati a Matera, oggi archiologo, andando in un'altra scuola di provincia. Questo progetto che forse poi anche tutta la regione del sud Italia, visiteremo 36 scuole. e la cosa importante è che voi impariate anche a conoscere non solo la frutta, ma anche la frutta della verona del nostro territorio, che è un territorio che è molto educato per queste evoluzioni e che invitiamo, attraverso il consumo di questa frutta, a conoscere sempre tutto il cino. Grazie. Ovviamente tutto quel che sono le buone pratiche che coinvolgono i ragazzi, come l'educazione alimentare, l'educazione al movimento, perché con questi social si sta un po' perdendo quello che è il punto focale della vita, tra cui il movimento, che appunto porta a un sano uno stile di vita e ovviamente questa manifestazione frutta e sala, promossa dalle varie associazioni frutticole, che coinvolge ovviamente le scuole, non può che renderci felici perché sono i ragazzi coloro che insomma devono essere i protagonisti per questo futuro sano. Grazie. Grazie a tutti.